Una sconfitta contro una buona squadra, però giocando un'ottima partita da parte dei giovanesi, a mio avviso. Cosa ne pensa? Siamo tutti concordi, tra il nostro Presidente, che non è concordi. Il Presidente a fine partita ha ragionato di forza. La squadra ha fatto una buona prestazione, ha fatto due gol, ha colpito un po' la traversa, ha creato altre occasioni. Logicamente pecchiamo in ingenuità, lo sapevamo già. A bambine le partite, quando spari, quando coinciditando, poi perdi. Però rimane affatto. Abbiamo giocato alla pari con una squadra, soprattutto della metà campo in su, fortissima. Ha grosse potenzialità, grosse capacità realizzative. Peccato, sono molto disposto per i ragazzi, perché meritavano quanto meno il pari vecchio, ci si può perdere, miglioreremo con il lavoro e continuiamo così, perché la squadra è in crescita. L'abbiamo costruita, la stiamo completando ancora adesso. Ci vuole un pochino di tempo. Oggi esordio della punta di quel ragazzo nuovo, ottimo esordio con gol. Con gol, la squadra ha fatto la sua... Sicuramente, come ripeto, la prestazione c'è stata, meritavamo un risultato diverso, abbiamo subito due calci di rigore, abbiamo subito un gol per una grande prodezza dei loro giocatori offensivi, che sono veramente bravi. quindi sotto questo punto di vista facciamo il complimenti a Brana, però a mio avviso il pareggio era più giusto. Perfetto, la ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.